Dopo la brutale eliminazione dell'Italia per partecipare ai mondiali di Qatar, riprende il campionato e ritorniamo alle cose di casa nostra, sempre più delusi e amareggiati per quello che è stato l'esito della sfida contro la Macedonia del Nord, una sfida che purtroppo ha riproposto in termini negativi il sistema calcio in Italia, un sistema che al di là di quelle che sono le piccole cose di casa nostra che danno emozione, intensità a questo finale di campionato dove sono perlomeno tre le squadre che possono ancora aspirare al titolo, non deve però far venire meno un giudizio critico sulla situazione dell'intero movimento calcistico in Italia. Un movimento calcistico che negli ultimi anni si è arricchito di troppi parveniù, diciamolo chiaramente, di arrivisti che hanno ben poco a che fare con il mondo del calcio. Chi vi parla sono 38 anni che segue da giornalista il calcio ai livelli di Serie A, seguendo in particolare il Napoli, ma sono ben 40 anni che fa l'allenatore di calcio con patentino e tessera presa nel 1982, vincendo anche il corso allenatori e aggiornandolo poi qualche anno fa con il patentino UEFA B. Oggi troppi gli arrivisti, troppi procuratori che d'intesa coi presidenti pensano piuttosto al proprio portafoglio, piuttosto che al bene del calcio italiano. Ne pagano le spese i giovani di casa nostra, spesso relegati già 20-22 anni con grandi potenzialità a giocare in campionati come quello di Serie C, dove difficilmente oggi gli osservatori vanno a vedere le partite perché oggi il calcio si vede dai social, dai video, non si va più sui campi, una volta addirittura di terra abbattuta per andare a scovare la promessa del futuro. E questa situazione si è riverberata in maniera negativa su tutto il movimento italiano. Il presidente Gravina e il povero Roberto Mancini ora sembra che siano coloro che hanno affossato il calcio italiano. Non è così purtroppo. Hanno ben altre responsabilità i presidenti dei club e forse la stessa Lega, sempre più impegnata in beghe interne piuttosto che a trovare delle linee di intesa comuni per migliorare il sistema calcio in Italia. Troppi interessi e troppi soldi per i ricchi e troppa poca attenzione verso i club che potrebbero lanciare i giovani, che quindi devono fare di necessità virtù e magari quando hanno il primo talentino lo vendono al migliore offerente, al grande club che però gli fa fare la panchina, non lo fa giocare subito da titolare, come invece accade in campionati ben più importanti e anche più ricchi come quello inglese, come quello tedesco e come quello spagnolo. Il presidente Gravina deve quindi avere più polso in quelle che saranno decisioni che non sono più rinviabili per il futuro del calcio italiano. Mi auguro che Mancini resti alla guida del gruppo azzurro perché è una persona seria, è una persona che ci mette la faccia sempre e comunque e anche in questa circostanza mi pare che ha detto dobbiamo rialzarci, fa trasparire la sua voglia di riscatto, una voglia vera, sincera, che forse molti giocatori italiani non hanno avuto completamente. E allora io mi permetto di dare non un consiglio ma delle prerogative importanti che deve avere il presidente Gravina per migliorare il sistema calcio in Italia. A cominciare dai settori giovanili, dai vivai, occorre selezionare le scuole calcio. Ne sono nate troppe e troppe sono quelle che non hanno tecnici, ma più che tecnici istruttori all'altezza. Bisogna andare a cercare la qualità dalla base, come fanno in Spagna scuole professionistiche come quella del Real Madrid, del Barcellona, che assumono tecnici a tempo pieno sin dai ragazzini dei sei, dai sei, sette anni in poi. In Italia il tecnico delle giovanili è sempre stato visto come un dilettante, un amatoriale e chi vi parla, anche se professionalmente ha sempre cercato di fare il massimo, si è trovato di fronte a questo tipo di realtà perché aveva poco tempo a disposizione, pochi campi e soprattutto poche attrezzature reali. Ecco il presidente della FIGC deve cominciare a selezionare, a fare delle vere e proprie cernite delle scuole calcio che possono dare veramente frutti importanti al sistema calcio italiano e soprattutto deve fare in modo che le società, anche e soprattutto quelle più importanti assumano tecnici a tempo pieno, ma tecnici che siano formatori, che siano istruttori, non allenatori giovani che hanno voglia di emergere per diventare i vari lippi, ancelotti o capello, che peraltro sono stati dei grandi gestori di grandi campioni. Quindi c'è bisogno di gente di grande professionalità e di entusiasmo nel lavorare e nel lavoro, che trasmetta questo entusiasmo ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio e trasmetta questo entusiasmo in modo che per questi giovani il gioco del calcio, e dico giuoco come viene definito dalle carte federali, diventi un fatto di passione, di emozione e non soltanto un mezzo per arricchirsi, come molti genitori purtroppo credono di avere subito il talento in casa. Poi ineccepibile il fatto di dover ridurre il numero degli stranieri titolari, nelle squadre soprattutto di maggior caratura nazionale e internazionale, privilegiando il piede d'opera nostrano, italiano. Giovani che sono ottimi giocatori, ce ne sono tantissimi in serie B e soprattutto anche in serie C, ma non hanno l'opportunità di avere la passerella del campionato maggiore perché vengono sostituiti o trovano la strada sbarrata da presunti talenti stranieri che operatori secondo noi senza alcun titolo propongono ai vari presidenti che forse anche per interessi extracalcistici preferiscono pagare denaro all'estero. E in terzo luogo bisogna ridurre assolutamente e rivedere la formazione dei campionati, ma soprattutto quelli di serie B e di serie C, dando loro una connotazione geografica più importante perché questo significherebbe diminuire le spese di trasferta e quindi poter aumentare la capacità di essere presenti sul campo con spese minori e soprattutto ponendo dei limiti ai giocatori che superano la trentina che scendono di categoria per andare a guadagnare ancora dei soldini ma non sono più giocatori che portano valore al pianeta calcio e aumentare assolutamente mettendone almeno cinque nelle formazioni titolari di under 23. Ecco ci sono queste a mio sommesso avviso le situazioni che devono portare a un miglioramento reale, concreto, sostanziale dell'attuale situazione del calcio italiano. Senza dimenticare, e quindi non mi nascondo dietro al dito, che grandi responsabilità hanno anche i media che negli ultimi anni sono peggiorati moltissimo con l'avvento dei social dove il qualsiasi de popolo può cominciare a ragionare o a dissertare positivamente o negativamente su qualche giocatore sia esso giovane meno giovane. Ecco, questo fatto diventa anche fazioso per molti elementi della stampa nazionale perché alimenta sospetti e soprattutto crea delle situazioni che potrebbero veramente creare solamente danni per i giovani e per coloro che vogliono cercare di raggiungere la massima platea nel nostro campionato. Che Gravina e soprattutto mi auguro Mancini abbiano la voglia e la forza di rialzare la testa e soprattutto la voglia di riscattarsi perché è veramente strano attribuire solo a loro delle colpe quando otto mesi fa erano riusciti in un'impresa che non era riuscita se non nel 68 e soprattutto a rinvernire fasti che oramai, l'ultimo mondiale risale al 2006, erano già passati e sono passati ben 16 anni dai momenti di estrema gloria vissuti in Germania. Domenica riparte il campionato, due partite importanti Atalanta-Napoli e Juventus-Inter, partite decisive che favoriscono inevitabilmente il Milan che è impegnato in casa contro il Bologna. Potrebbe essere il momento dello scatto decisivo per i rossoneri di Pioli che indubbiamente alla fin fine nonostante diversi stop anche da loro subiti sono stati la squadra forse più continua in un campionato che ripeto si presenta anche in coda estremamente difficile. Domenica c'è uno Spezia Venezia ed un Udinese Cagliari che può essere decisivo anche per le sorti della lotta della salvezza. Un campionato quindi interessante, un campionato dove purtroppo verranno a mancare quelle che sono le motivazioni per avere una ulteriore soddisfazione con i mondiali in Qatar. Ma ripeto ci sono tempi e modi per recuperare tutto quello che il calcio italiano è stato capace di fare soprattutto dal 78 al 2006 quando si sono vinti due titoli mondiali e quando si è arrivati ai quarti di finale e in finale a USA 94, terzi nel mondiale dell'Italia 90 e eliminati nel 98 solamente ai quarti di finale dalla Francia che poi vinse il titolo. Quindi il calcio italiano deve soltanto riprendere quella che è stata sempre la sua strada maggiore che è una strada fatta di successi e che non può finire con due flop come quelli mondiali del 2018 e quelli di purtroppo di questa stagione a dicembre in Qatar.